Ciao a tutti e benvenuti oggi studiamo Fatti Mandare Dalla Mamma di Gianni Morandi Ne approfitto anche per salutare Cristian Lagni che in tante occasioni mi ha richiesto questo brano. La ritmica la suoniamo in questo modo giù giù su giù su Nella prima parte nella prima sezione suoneremo in questo modo C è un'ora che aspetto Am davanti al portone D7 trova una scusa D per uscire di casa G7 tutti accordi singoli qui c'è una piccola linea melodica suonata sui bassi cioè suoniamo il G terzo tasto della sesta corda il A quinta corda a vuoto il B secondo tasto della quinta corda e il C terzo tasto della quinta corda Fatti Mandare Dalla Mamma di Partiamo con il ritmo F A A prendere il A del G qui c'è già una piccola variazione perché si spezzano gli accordi cioè all'interno di una battuta non troviamo più un solo accordo quindi ci possiamo permettere di suonare il ritmo che abbiamo indicato ma dobbiamo cambiare leggermente la ritmica per poter inserire questi due accordi all'interno della battuta C7 Am G quindi prendiamo il ritmo ripeto devo dirti qualche cosa che riguarda noi due quindi sia per il C e il E7 Am G dobbiamo seguire questa ritmica giù giù su poi giù giù su giù giù su giù su e riprendiamo con il ritmo indicato prima cioè giù giù su su giù su Ti ho visto uscire dalla scuola Ritmo normale insieme ad un altro con la mano qui come prima ma qui c'è una piccola frase in più PASSEGGIAVA CON TE DI stessa cosa quindi per il F A e per il G7 quindi ci sono due accordi all'interno di una battuta sul C riprendiamo con il ritmo vi consiglio di suonare il F e il G7 non in questo modo molto scomodo ma di suonarlo così il G7 potete suonarlo come un F maggiore al terzo tasto e togliere il mignolo la stessa cosa può accadere con il G maggiore quindi F maggiore G maggiore basta spostare il barretto identico al terzo tasto andiamo avanti tu dirgli a quel coso E7 Am ancora E7 Am D7 che se lo rivedo G D7 gli spaccherò il M G7 F ti mandare da A B F maggiore ora sempre spezzati presto scendi scendi amore ho bisogno di te quindi presto C maggiore E7 sempre corti spezzati Am D7 e riprendiamo il ritmo sul G7 ho bisogno di te ho bisogno di te C maggiore Am F maggiore G7 e chiudiamo il G7 prova a cantare il brano a bassa voce lentamente in modo che lo possiamo studiare più facilmente è un'ora che aspetto davanti al portone se trova una scusa per uscire di casa fatti mandare dalla mamma a prendere il latte devo dirti qualche cosa che riguarda noi due che ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro con la mano nella mano passeggiava con te tu dirgli a quel coso che sono geloso che se lo rivedo gli spaccherò il muso fatti mandare dalla mamma a prendere il latte presto scendi scendi amore ho bisogno di te ho bisogno di te e con questo è tutto ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao